Si chiama Viviana Ross, a 22 anni d'età, lavorava come cameriera pensata all'interno di un hotel di lusso dove il buon Orlando Bloom avrebbe alloggiato durante le anteprime di Londra, del nuovo film dei Pirati dei Caraibi, un nuovo capitolo filmografico, quindi cinematografico. E da quello che sarebbe riportato su internet sembrerebbe che per l'appunto il buono Orlando Bloom avrebbe, per così dire, detto in modo piuttosto poetico, inzuppato il biscotto nella fragola di Viviana Ross. Insomma, il bel Orlando avrebbe fatto sesso con Viviana Ross. Questo è quello che sarebbe riportato su internet. È chiaro che non si sa se effettivamente sia vero oppure se ci sia qualcosa di falso, ma certo è che tantissimi stanno parlando di questo caso qua. Vi ringrazio per il gentilissimo ascolto, esimi utenti di YouTube. Il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa cameriera che avrebbe fatto sesso, quindi avrebbe fatto l'amore proprio con il buon Orlando Bloom, un personaggio di spicco del mondo rondinese e non solo. Salute a voi tutti e a presto. Salute a voi tutti e a presto.